Essere capitale della cultura crea un effetto domino con ripercussioni anche sul mondo lavorativo associativo. Intelligenza artigiana, valore per l'Italia sarà infatti il tema della terza giornata della cultura artigiana promossa da Confartigianato Imprese che si terrà martedì 19 marzo nella ricorrenza di San Giuseppe Artigiano. Un evento di carattere nazionale che coinvolgerà tutto il sistema associativo con momento centrale proprio al Teatro Rossini. Il 19 marzo era la festa religiosa a San Giuseppe Artigiano ma noi ormai da tre anni andiamo oltre questa connotazione solo di festa religiosa e parliamo infatti di cultura artigiana quindi era l'occasione proprio in occasione dell'anno della cultura della città della cultura a Punto Pesaro quindi era l'occasione sicuramente per portare questo evento anche in questa città. È un evento a livello nazionale quindi ci sono i vertici della Confartigianato nazionale in cui volevamo tentare di parlare con degli ospiti veramente autorevoli dal punto di vista proprio sia della parte scientifica per quanto riguarda tutto quello che è lo sviluppo del mondo imprenditoriale a partire dall'intelligenza artificiale ma non solo i temi dell'intelligenza artificiale vogliamo trattare anche come impatta l'intelligenza artificiale sul mondo artigiano. Noi sappiamo che abbiamo delle imprese che si sono evolute in questi anni in maniera eccezionale ma dobbiamo fare in modo che non siano travolte da un evento che potrebbe non essere governato. Ci sarà in collegamento Fagin dalla California che è come sapete già stato qui a Pesaro è il primo che ha studiato anche a fondo quelle che potevano essere le implicazioni scientifiche dello strumento quantistico del computer proprio sui metodi di ragionamento anche umani delle persone. Quindi ci sarà in collegamento Fagin, ci sarà poi un fisico musicista che è appunto Vincenzo Schettini che è grande comunicatore anche per i giovani. Quindi è un evento che servirà per fare il punto un po' della situazione della nostra imprenditoria soprattutto della piccola imprenditoria ma servirà anche per capire dove si deve andare per il futuro. Noi preferiamo parlare di intelligenza artigiana che comunque compensa ed è complementare all'intelligenza artificiale. Sono sicuramente delle risorse che si possono coniugare e sicuramente l'intelligenza artigiana è quella che ci fa andare avanti tutti i giorni, produrre nuove idee che possiamo poi sviluppare anche con l'intelligenza artigiana. Il Confartigianato è stato vicino da subito al progetto della Capità Italiana della Cultura credendo nel progetto, condividendo dei percorsi, coinvolgendo la stessa amministrazione anche nei ragionamenti di internazionalizzazione che sta portando avanti e in particolar modo raccogliendo quello che è stato un input che abbiamo dato alle organizzazioni, alle associazioni, ai livelli produttivi così come agli ordini professionali di approfittare di questo 2024, una vetrina importante per tutto il territorio per tenere e attrarre anche eventi nazionali delle proprie organizzazioni del territorio. Quindi niente di meglio il 19 marzo, giornata dedicata a San Giuseppe per l'artigianalità vissuta in questo caso però con un occhio molto attento al contemporaneo e al futuro a partire dal titolo dell'intelligenza artigiana che ovviamente vuole dialogare con le sfide dell'intelligenza artificiale, non come paura ma come elemento di potenzialità di un lavoro che viene fatto sulla base della qualità del sapere artigiano in una provincia come la nostra in cui è altissima, oltre al 90% la parte di produzione che viene dal mondo artigiano, in una regione che è fortemente artigiana e quindi un focus importante che vivrà in tutta la giornata del Teatro Rossini con grandi ospiti che ci permetteranno di ragionare, dialogare e proiettare in avanti queste sfide. Quindi ringrazio la Confartigianato perché è un contributo importante l'incontro al programma della Capitale 24.